Monteleto si trova vicino a Gubbio e Gubbio è in Umbria, una regione nel cuore dell'Italia. Monteleto non si trova proprio in montagna ma non è neppure in pianura, è un paese piccolo e nei posti con poche persone ci sono anche pochi bambini. Così Daza ha fatto amicizia soprattutto con gli animali, un drago sputafuoco, un panda rosso, un leopardo delle nevi, un'aquila reale e una gru dal collo nero. Ma io questo posto lo conosco, è il bosco dei lecci e ci vengo sempre qui a giocare, corro fra gli alberi, mi nascondo, li conosco uno ad uno per nome. Per esempio, guarda laggiù, laggiù c'è Valventulla, c'è Valventulla, e ancora Quarcia Squercia, oh Quarcia Squercia è fortissima, Quarcia Squercia. E ancora Nonno Almo, ciao Nonno Almo, come stai? Che bello, qui mi diverto, questa è casa mia, ti vedo, ti rivedo, non la vedo anche te. Per il balsai, buona dosa! Scoprì che i suoi artigli erano come conficcati nel terreno E che lui, di fronte a Francesco, non si poteva più muovere Allora il lupo chiuse la bocca Sollevò la zampa destra e la pose fra le mani di Francesco Perché quello era il modo che aveva di stringere amicizia Perdonami Perdonami e sii mia amica E ti prometto che non ucciderò mai più un altro essere vivente E da quel giorno non ci furono più sacrifici E si sparse la voce Che nessun essere vivente deve essere ucciso da un altro essere vivente Perdonami e sii mia amicizia Perdonami e sii mia amicizia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto muore? Sì, piccolo Daza. Noi la chiamiamo in permanenza. Facciamo un gioco. Io, tu, tutti noi siamo come del leone nel mare. La tua forma cambia, ma tu non scompari. 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 La tua forma cambia, ma tu non scompari.